Un'altra cosa riguarda incredibile, incredibile la questione della Schlein, perché la Schlein oggi è celebrata dalla Meli sul Corriere della Sera e da Concetto Vecchio sul Repubblica, celebrata perché fa la rapper ad assago con J-Ax. J-Ax è già un personaggio piuttosto particolare, può piacere o non piacere, gli articoli di 31 possono piacere o non piacere, però questa si mette in maniera patetica, patetica, andate sul pezzo di De Lorenzo sul mio sito e vedete il video, patetica, a fare due passetti di ballo e di rap con J-Ax sul palco, peraltro è patetico anche J-Ax per come canta, ma questo è un altro discorso, non stiamo prendendo una questione canora qua, stiamo prendendo una questione politica. L'intervallo musicale però non distoglie Schlein dei suoi affanni quotidiani, concetto vecchio sul fronte del palco con J-Ax e J-Ax che urla «Sister, io credo in te!» Ma ragazzi, ma stiamo a scherzare? Cioè, noi abbiamo rotti alla cafonaggine del papete di Salvini per un anno intero, lo incolliamo al papete, alla sua pancia, al suo aperitivo e al papete fa schifo l'idea del Salvini che deve avere la sua dignità, vero Serra? Deve essere un uomo delle istituzioni, vero Francesco Merlo? Deve essere un uomo che abbia anche durante l'estate un atteggiamento rigoroso, vero Massimo Gramellini? Invece il segretario del Partito Democratico si mette al concetto del J-Ax mentre si fanno i cani in piazza, che va benissimo, figuratevi, fate un po' quello che volete, a me Giuseppe Gemma sei un genio, dall'articolo 18 agli articoli 31 è un attimo, sei un genio Giuseppe Gemma, dall'articolo 18 all'articolo 31 è un genio, quindi non vi è alcun problema, cioè io penso che egli possa fare quello che gli pare, a me quando l'ho vista ballare da J-Ax fa quello che gli pare, come tutti i politici possono fare quello che gli pare, certo mi stupisco che J-Ax poi si metta a urlare a un concerto è la numero uno, viva viva Schlein, ma questi sono di J-Ax e di quelli che lo ascoltano, un palco che deve stare lì a sentire un concerto in realtà fa politica per il Partito Democratico, ma va benissimo, il punto sostanziale è un altro, dove sono finiti Merlo, Gramellini, Serra che rompevano sul partito del papete e poi dopo invece se lei, ma comprensibilmente come faceva anche Sandini, si diverte, in questo caso non c'è più il rigore, l'istituzione